Buonasera, siccome non è che sono stupida che riprendo così, c'è una motivazione e la motivazione è che voi adesso così non lo capite sicuramente, ma ecco, ho tagliato i capelli e li ho tagliati da sola, adesso sono un po' messi così perché siamo usciti, c'era vento, un casino, e sì, sono anche in pigiama, comunque sì, ho tagliato i capelli e vi dirò che mi piacciono pure parecchio come mi stanno, voi che dite? Meglio, peggio? Gli ho lasciati, diciamo, una lunghezza normale, li ho tagliati da sola con la faccenda dell'elastico, ho messo due elastici qua esattamente allineati e zack, ho tagliato, poi la scalatura vabbè l'ho fatta solo davanti un pochino qua, e così, e così, oggi è sera e non ceniamo perché siamo stati a pranzo dai nonni di Christian e quindi non si cena, assolutamente. Volevo, questo è un video brevissimo, volevo dirvi una cosa, ho pensato di fare un video ask, pertanto sotto questo video, nei commenti, potete farmi tutte e tutte le domande che volete, ovviamente tranne, che ne so, il pin del bancomat, la password di Facebook, tutte le domande lecite a questo, in questo mondo, insomma, quindi poi nel prossimo video risponderò alle domande che mi fate, se vi fa piacere, altrimenti, pazienza, questo video rimarrà morto così. E poi fatemi sapere cosa ne pensate dei capelli, ora vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video.